tradimento ci sono tanti tipi di tradimento quello fiduciario è uno dei peggiori e vediamo che cosa sta succedendo e cosa probabilmente succederà a uno dei marchi che sta lanciandosi sul mercato italiano che ha deciso di tradire i suoi utenti parlo di da zone con la impossibilità di condividere da fine di dicembre il proprio abbonamento come in realtà all'inizio era all'interno del contratto vediamo i come i perché i cosa è successo e cosa probabilmente succederà io sono Matteo Flora mi occupo di comunicazione digitale e di valore e questo beh questo è ciao internet ciao internet nelle ultime ore la parte di web che seguo io la mia bolla è stata sconvolta dal fermento di da zone e della cessazione dell'abbonamento disgiunto che cos'è beh la notizia delle ultime ora è che a partire da dicembre in realtà non si sa ancora esattamente quando verrà a mancare una delle una delle caratteristiche dell'abbonamento di da zone che era riuscita a far acquistare così tanti utenti all'inizio cioè la possibilità di avere un abbonamento disgiunto il singolo abbonamento in altre parole è utilizzabile da due persone differenti ovviamente l'utilizzo da parte di due persone differenti significa che una buona parte degli utenti come standard nella rete con gli account di spotify con quelli di netflix abbia deciso di condividere la spesa e far funzionare direttamente il proprio abbonamento o anche se non condividere la spesa con un amico il condividere volontariamente con parenti con famiglia con giro di amicizia il proprio abbonamento per ogni abbonamento in realtà quindi le persone che potevano usufruire di quell'abbonamento sono due cosa è successo? è successo che questa tipologia di abbonamento verrà rimossa al suo posto la possibilità di utilizzare quello che viene normalmente chiamato un multischermo cioè lo stesso abbonamento è utilizzabile da due dispositivi ma all'interno dello stesso indirizzo IP cioè connessi alla stessa rete wifi ad esempio cosa che cambia significativamente le carte in tavola da due connessioni a una sola connessione e due monitor chiamiamoli in generale così che possono vedere la partita se io sono qui e mio fratello mia sorella è nell'altra camera possono ovviamente possiamo vederlo insieme ma il mio amico con cui condividevo l'abbonamento che abita a qualche chilometro da casa mia o dall'altra parte del mondo non potrà averne non potrà vedere l'abbonamento perché ci sono due diverse motivazioni che si possono dare una secondo me più corretta e non è quella che è stata utilizzata e quella poi che è stata utilizzata per la comunicazione ambe due hanno pregi e difetti vediamo la comunicazione secondo me reale la comunicazione secondo me reale è che per ogni abbonamento che vendi l'infrastruttura che già ha avuto una serie di problemi è carica di in realtà due abbonamenti due indirizzi IP due connessioni quindi se vendi un milione di abbonamenti e pianifichi la tua infrastruttura per un milione di abbonamenti il fatto di avere due milioni di persone che si connettono ti può dare dei problemi anche significativi da lì il fatto di prendere prendere contromisure e di tagliare quanto taglieranno dicono il 20 per cento probabilmente nella mia idea è un po più alta in realtà se prima avevano due milioni di persone connesse con un milione di abbonamenti secondo me almeno nove se prima ne avevano un milione e mezzo mettiamolo così ma la metà degli utenti condividevano l'abbonamento adesso ritorna una diminuzione del 50 per cento oddio dal 30 al 50 per cento del carico che è significativa significa milioni di euro di riduzione di carico rispetto al tutto il problema è come l'hanno comunicato già perché la comunicazione non parla di problemi infrastrutturali e tutto ma parla di pirateria in realtà come dice l'articolo per frenare la pirateria parla di utilizzo non conforme la concorrensì cioè più utenti commessi contemporaneamente è stato riscontrato che per ogni partita si verifica un 20 per cento di utilizzo non conforme è un proliferare di siti web che facilitano la condivisione dell'abbonamento già perché è parte di quello che è normalmente la modalità di vendita di questo tipo di abbonamenti digitali niente di particolare e dare dei pirati ai tuoi utenti che usano l'abbonamento esattamente come tu glielo hai venduto beh non è un gran che come decisione e infatti proliferano ovviamente tutti decine centinaia migliaia di insulti di racconti ma soprattutto un paio di hashtag su twitter uno da zone out che parla ovviamente di cancellazione dell'abbonamento cosa che è assolutamente possibile fare a questo punto perché è possibile rescindere il contratto senza penali perché ovviamente c'è stato un cambiamento in corso d'opera dell'abbonamento da parte di da zone quindi una variazione unilaterale di contratto bisogna vedere anche lì dal punto di vista regolamentario come andrà a finire mi aspetto qualche bacchettata non da ridere come c'è stato con gli operatori telefonici da parte dei degli enti preposti al controllo ma a parte quello il problema è un altro secondo me a parte a spardonate scusatemi l'altro hashtag bellissimo disdetta leotta riprendendo da diletta leotta il volto forse più amato del calcio e facendo ovviamente il gioco di parole con disdetta in twitter è pieno di di geni e io li amo tantissimo non è la prima volta che ci sono problemi ma questo secondo me sarà il problema vero e proprio che colpirà il numero veramente di abbonamenti disposto a sbagliare ma si tratta del classico errore di valutazione da un punto di vista reputazionale e di valore prova a spiegarmi meglio siamo abituati al fatto che le cose possono non andare soprattutto dai italiani siamo abituati al fatto che i problemi accadono quindi l'idea stessa che ogni tanto una partita non si veda per un pezzettino per un po di più o anche un'intera partita ci siamo più o meno abituati a convivere siamo disposti a scusare se vediamo che cosa se vediamo che la situazione mano a mano migliora siamo animali come esseri umani nati per sbagliare che dagli errori sono abituati ad imparare a crescere quindi non ce la prendiamo più di tanto per l'errore in sé fin tanto che abbiamo la fiducia che l'altra parte sta facendo di tutto per evitare le problematiche finché questa fiducia rimane nella nostra testa accettiamo le scuse ci muoviamo avanti magari mugugniamo ci lamentiamo da bravi italiani ma continuiamo ad essere fedeli dalla nostra parte a quella fedeltà che percepiamo dall'altra parte è diverso è il discorso quando qualcuno tradisce la fiducia e ancora peggio quando tradisce questa fiducia partendo da un punto di vista fecuniario già perché ovviamente in questo caso il tradimento e la variazione unilaterale del contratto portando il contratto da due persone che potevano condividerle a una sola famiglia e quindi un solo utilizzatore è un tradimento della fiducia ma è un tradimento della fiducia che impatta sui miei soldi e e ancora una volta parte i profili regolamentari e le problematiche abbiamo travalicato il problema abbiamo travalicato la soglia dell'errore ci siamo spostati come brand nella soglia del tradimento di alcuni valori fondamentali il patrimonio i soldi la mia possibilità di andare avanti perché poi la mente proietta e soprattutto l'amicizia il fatto che io avevo condiviso questa cosa con un amico una persona non detto che lo facessi anzi sono disposto a credere che non tutti o una esigua parte di questi condividessero l'abbonamento per avere uno sgravio del costo dell'abbonamento ma tanti di questi secondo me lo facevano ma non numeri in merito proprio come regalo come fiduciario e tocco quel tipo di sentire quel tipo di amicizie e se sono disposto a dare nuove chance per degli errori non sono disposto più a darlo per una deliberata trasgressione di un patto un patto soprattutto che impatta su di me con le persone che conosco e la fiducia non c'è più la fiducia è una cosa strana può andare avanti per tanto tempo ma basta un fatto particolare per eroderla fuori da quel minimo che serve per fare in modo che io di questa realtà che sia il mio partner che sia il mio datore di lavoro che sia un brand che utilizzo beh di questa realtà io non mi fido più e secondo me è esattamente il punto che abbiamo toccato qui ma ancora una volta queste sono le mie lucubrazioni le mie le 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 mie supposizioni sono il mio punto di vista raccontatemi qui sotto il vostro e ditemi voi cosa ne pensate invece sono davvero curioso di ascoltarlo tutto qui io sono Matteo Flora mi occupo di queste cose per lavoro trovate qui alla vostra sinistra tutti i link e le aziende che potete contattare mentre invece tutti i giorni con ciao internet trovate adesso il canale youtube il canale telegram e la newsletter fa iscrivetevi se non l'avete ancora fatto così magari non vi perdete altre analisi vi racconto con ciao internet algoritmi e regole che governano macchine ed umani per capire un po come la rete ci cambia e come sempre anche questa volta grazie mille per avermi ascoltato ed è stato ai parati